Mister, non solo delusione ma oggettivi difficoltà ha creato la decisione del mancato riprescaggio dell'alma. Quali sono i termini della questione e come agirete? Sono state 48 ore difficili, dure, di sofferenza, di delusione e non ci aspettavamo questa mazzata che è arrivata alcune ore fa. In questo momento in Serie D tante prime scelte sono state già prese da società che hanno investito tanto, che hanno costruito per tempo e adesso noi dobbiamo entrare nel mercato, soprattutto nel mercato anche dei calciatori svincolati che possano darci quell'esperienza e quella completezza che in questo momento il mio gruppo non ha. Quello che ho, io in questo momento ho chiesto alla società di poter entrare in un mercato molto attivamente e di avere la possibilità nel ritiro di frontone dove lì faremo le doppie sedute, inizieremo a costruire il nuovo Fano, avere perlomeno due o tre giocatori di esperienza che mi possano aiutare a costruire questo gruppo. Poi cammin facendo la continueremo ad aggiustare. E' fatto un appello anche a sostegno del Presidente in modo che la società possa poi rinforzarsi anche dal punto di vista economico. Io dico che il Presidente russo ha fatto in questi anni tantissimi investimenti, ha fatto un sacrificio enorme ma da solo secondo me non riuscirà a costruire una squadra adatta al blasone e alla città. Quindi io spero che qualcuno si avvicini al Presidente, che qualcuno possa dare una mano al Presidente perché in questo momento forse come non mai abbiamo bisogno di un aiuto. Ma Minister, cosa si aspetta dalla tifoseria? Per noi i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, noi abbiamo bisogno di loro e se loro capiranno in questo momento che saranno loro forse un traino, forse in questo momento il traino più importante per saltare questo momento delicato, allora forse fra un mese potremmo tutti essere più sereni.